Bene, ringrazio la squadra per questo successo di riconferma della nostra amministrazione, vuol dire che abbiamo lavorato bene, che abbiamo fatto tanto, la progettualità che avevamo avviato cinque anni fa è stata quasi totalmente svolta. Il nuovo programma non è altro che la prosecuzione di quello con implementazioni per quanto riguarda manutenzioni, incrementi della mobilità dolce, come si suole chiamare i tracciati, pedonali, ciclabili e quant'altro. Una manutenzione più accurata al territorio e alla viabilità. Nulla, metteremo sempre il nostro impegno, quello che abbiamo messo in questi cinque anni, ovviamente ci verrà chiesto ancora di più, perché la responsabilità aumenta e sappiamo che dovremo fare ancora meglio. Quindi l'ESMO Amica siamo partiti con il nostro slogan, l'ESMO ancora di più. Intendiamo mantenere la nostra promessa.